Un incontro tra gli esporenti del Movimento per la Difesa del Centro Abruzzo, il Presidente Luciano D'Alfonso e i dirigenti dei competenti uffici regionali per chiarire definitivamente la vicenda dei poli d'attrazione. E' quanto annunciato l'assessore regionale alle aree interne Andrea Gerosolimo, che ha ribadito come il declassamento non comporterà alcuna ulteriore spogliazione di servizi nei settori dell'istruzione, dei trasporti e della sanità. Gerosolimo ha risposto anche alle dichiarazioni del Sindaco Ranalli, che ritiene paradossali e sconcertanti. Quello dell'inclusione di Sulmona tra i poli d'attrazione e l'istituzione della quinta macroarea regionale è un argomento che tiene banco in questi giorni. A rianimare il dibattito è stato nel discorso il Movimento in Difesa del Centro Abruzzo, che ha contestato gli amministratori locali, definendoli apatici indifferenti sul tema. Il Movimento ha lanciato anche una petizione popolare. A sollecitare la regione Abruzzo per correggere l'errore materiale che esclude Sulmona dei poli d'attrazione è stato ieri sera chiederlo al Sindaco il primo cittadino di Sulmona, Peppino Ranalli. Chiederò immediatamente alla regione di risolvere il problema, ribadisce il primo cittadino. Nella classificazione dei poli d'attrazione non è stato riconosciuto infatti a Sulmona un ospedale di primo livello.